La prima informazione che stiamo per cambiare è il cambiamento in tutte le wikipedie, in tutti i paesi del mondo. Noi così vediamo davanti a noi stessi subito la sfera del controllo politico che sorge in cui vediamo questo bagliore ed è il bagliore della soluzione radica. Per tutta la civiltà. E quindi in questo bagliore della soluzione radica per tutti, per tutta la civiltà. Noi vediamo proprio specificamente il bagliore della soluzione. Vediamo quindi che in tutti i paesi del mondo, in tutti gli articoli su wikipedia, in tutte le lingue, ci sono le informazioni vere. Su Gregorio Petrovic Grabovo le informazioni verificate, autentiche. E noi troviamo questo bagliore e questa soluzione radice per tutta la civiltà. E poi continuiamo a concentrarci sempre nella stessa soluzione radice. Noi troviamo anche la soluzione dei problemi personali. In altre parole, noi in questa sfera del controllo politico vediamo la luce specifica in cui si vede che in tutte le wikipedia le informazioni sono state cambiate e sono state sostituite da quelle vere, da quelle autentiche. E così in questo bagliore vediamo che tutti i media forniscono le informazioni vere. Vediamo che qualsiasi catastrofe globale nucleare. in questo caso quindi è prevenuta, quindi non succederà. In più, sempre in questo bagliore, noi vediamo che tutti i paesi del mondo si sono uniti per firmare il patto sulla soluzione pacifica delle situazioni di conflitto. Io preludo che potete avvicinare il video perché questo ecco vediamo la situazione di noi. E quindi per qualsiasi questione che noi pronunciamo ad alta voce oppure anche alla quale pensiamo, per qualsiasi questione, per qualsiasi problema come ora per esempio noi subito troviamo la soluzione, la risposta nella forma del bagliore in questa sfera del controllo politico. E vediamo che tutti i paesi del mondo si sono uniti per neutralizzare qualsiasi tipo d'arma. E anche per eliminare le cause dell'utilizzo delle armi. Per lo sviluppo eterno felice ed edificante di ogni persona. In più se per esempio ora pensate ai vostri problemi privati, alle vostre questioni private, ora sempre in questa sfera cercate di trovare il bagliore specificamente per la soluzione. In più troviamo anche la soluzione per le questioni di tutte le persone presenti. E ora possiamo anche seguire la lista dei partecipanti. E possiamo vedere l'ottica, quindi il bagliore nell'ottica della soluzione e dei compiti di ogni persona presente.